Continua incessante l'attività di contrasto alla diffusione e consumo di sostanze stupefacenti da parte della polizia locale nord-est Vicentino. A Tiene gli agenti hanno ritirato la patente e i conducenti di una Fiat nel vano Portoggetti hanno rinvenuto residui di eroina. A Fara Vicentina, situazione simile. Qui il giovane ha due grammi di marijuana, anche per lui patente ritirata e segnalazione alla prefettura quale assuntore. A Brendola veniva pizzicato un ragazzo con uno spinello, lo stesso poi consegnava un grinder. Gli agenti hanno posto sotto fermo amministrativo il ciclo motore del ragazzo e ritirata la patente. A Zuliano, a finire nei guai un 39enne, in auto aveva della marijuana e due involucri di cocaina. Lo stesso veniva segnalato e ovviamente ritirata la patente di guida.